L'altro grande tema oggi, Giorgio Meloni che peraltro ha parlato poco fa a Londra, insomma ha parlato a lungo con Shunach di migranti, il Papa in Ungheria stamattina ha parlato di migranti, questo è il grande tema, perché è anche il grande tema del futuro che ovviamente coinvolgerà tutti i cambiamenti climatici, quanto ne abbiamo parlato, come sta lavorando il governo? Secondo me sta lavorando molto bene, io ovviamente da Presidente della Prima Commissione sono l'interlocutore parlamentare diretto del Ministro dell'Interno e ovviamente tutti i provvedimenti, i decreti legge che riguardano il caso dell'immigrazione e della sicurezza vertono sulla Prima Commissione Affari Costituzionali, quindi per esempio in queste ore abbiamo licenziato in seconda lettura in Commissione, andrà in Aula il 2 maggio il decreto legge cosiddetto Cutaro, cosa bisogna fare? Bisogna capire che i tempi stanno cambiando, che anche la geopolitica internazionale, ci sono alcuni paesi del Nord Africa e noi siamo soprattutto legati al fenomeno migratorio del cosiddetto Mediterraneo centrale, noi abbiamo la necessità di capire cosa accade nei nostri paesi frontalieri, quelli che si affacciano sul Mediterraneo, africani, per esempio in questi mesi sta accadendo quello che non dovrebbe accadere, cioè che in Tunisia dopo la crisi libica, adesso nasce una crisi particolarmente dura in Tunisia, per cui l'aumento degli sbarchi è direttamente collegato alla crisi economica, c'è addirittura un rischio di default dell'intero paese e che sta riversando sulle coste italiane decine di migliaia di migranti che scappano dalla povertà e da una situazione di instabilità politico-finanziaria e noi dobbiamo capire, e l'Europa deve capire che questo è solo l'inizio di quel che potrebbe avvenire anche nei prossimi mesi, quindi uno, dobbiamo capire che alcuni lavori, per esempio gli italiani, ma anche i francesi, i tedeschi, gli austriaci e via di seguito non intendono più svolgerli e quindi dobbiamo cercare di intercettare in mano d'opera anche nei paesi stranieri, per esempio anche quelli africani, dobbiamo capire però come far arrivare, cioè come cercare di eliminare o quantomeno ridurre drasticamente la cosiddetta immigrazione irregolare. Irregolare vuol dire che uno senza documenti, senza passaporto... Non arriva in Italia ma ci arriva senza documenti, attraverso il fenomeno gravissimo dei cosiddetti scafisti che sono dei veri e propri mercanti di uomini, di donne, di bambini e che di fatto sbarcano. Quindi come fare? Bisogna attraverso questo decreto, per esempio, se cercato di iniziare ad affrontare nel modo più corretto possibile la trasformazione delle immigrazioni irregolari in immigrazioni irregolari, ovviamente gestendo nel modo migliori e non chiudendo i cosiddetti asi, cioè i luoghi dove poi queste persone che possono rimanere, chi può rimanere, debbano rimanere nel nostro territorio. E poi sarà un lavoro lungo, tutto quel lavoro di coordinamento europeo, insomma, attraverso senza quello, come dire... Però è un tema che non può rimanere solo italiano, il tema è che deve rimanere dell'Unione Europea perché poi molti di questi immigrati, anche irregolari, sono in transito, quindi arriveranno magari in qualche modo in Germania, in Svizzera, in Austria, in Francia.